Mi presento brevemente, mi chiamo Giulia Brunetti, ho fatto un dottorato di ricerca in fisica, in co-tutela tra l'Italia e la Francia e lavoro attualmente all'Università di Berna come ricercatrice, quindi sostanzialmente vengo a porre la questione generale della situazione dei ricercatori italiani che si trovano all'estero. Per esperienza personale, avendo lavorato quindi in Italia, in Francia e in Svizzera, ho avuto modo di conoscere le modalità con cui si fa ricerca all'estero e capire come la società all'estero in Europa percepisce la figura del ricercatore. Quello di cui mi sono accorta è che lo studente italiano che finisce gli studi, per quanto riguarda la fisica perlomeno, è uno studente di buonissimo livello in Europa, quindi il problema sorge dopo, nel momento in cui un giovane si affaccia al mondo della ricerca. Il problema del fatto che l'Italia perda la risorsa che i giovani ricercatori italiani rappresentano deriva dal fatto che lavorare all'estero come ricercatore in questo momento offre dei vantaggi che sono innanzitutto la possibilità di lavorare in un ambiente internazionale, competitivo, intellettualmente stimolante, il fatto che la società riconosca la nostra figura come una figura lavorativamente importante di lavoro che comporta delle conseguenze, il fatto che il nostro lavoro si è equiparato, un altro lavoro qualunque, permette ad esempio a un giovane ricercatore di poter formare una famiglia e avere figli già ad esempio durante gli studi del dottorato di ricerca e d'altro canto un giovane italiano che decide, sceglie di fare ricerca, di avere un periodo di formazione all'estero va incontro a delle difficoltà, a delle rinunce personali, al di là delle rinunce di carattere personale e privato purtroppo deve rinunciare alla possibilità di contribuire allo sviluppo del proprio paese. Quello che in Europa è considerato normale è che uno studente abbia un periodo di formazione in un altro paese, in Italia questo ancora non è così, all'estero è un valore raggiunto, secondo me bisognerebbe che in Italia diventasse normale una situazione che è già la norma in altri paesi europei. Centri di ricerca forti, competitivi, innovativi, che possono essere università, laboratori o enti, dovrebbero offrire quel confronto internazionale che ancora in Italia non c'è, c'è un sistema chiuso sostanzialmente che non ha quella mobilità che c'è nel resto d'Europa. Quindi secondo me se vogliamo puntare su una ricerca innovativa e sfruttare le risorse che i giovani ricercatori italiani rappresentano ma anche ricercatori stranieri che possono venire in Italia, che non sono molti, bisogna dare modo all'Italia di avere un sistema più mobile come quello che c'è in Europa. Questa è la mia, diciamo, il punto della situazione come giovane ricercatrice all'estero. Grazie. Va bene, allora buonasera a tutti, mi chiamo Diego Rivetti, lavoro alle Nazioni Unite, mi occupo di debito pubblico. Tranquillizzo subito, non voglio parlare di spread, di debito, quindi voglio parlare però di due punti, di due idee che mi sento di dover aggiungere al decalogo che il segretario Bersani ha stilato per le sue primarie. E queste due idee sono l'idea di cultura e l'idea di merito, di meritocrazia. Penso siano due idee molto importanti per gli italiani che vivono all'estero. La prima, appunto, quella di cultura. Quando sono arrivato a Ginevra cinque anni fa ormai, una delle cose che più mi ha colpito era proprio l'assenza di offerta culturale italiana per una città che ha oltre 50.000 italiani residenti ufficialmente. Allora la risposta che abbiamo dato insieme ad altri amici è stata quella di creare un'organizzazione, un'organizzazione su base completamente volontaria, Cultura Italia, che oggi offre cinema, offre serate di letteratura, serate gastronomiche. Ecco, questo è un po', secondo me, un esempio che si potrebbe, per così dire, esportare. Credo che si debbano rafforzare gli istituti di cultura all'estero, ma al tempo stesso svecchiare l'offerta. Svecchiare l'offerta significa magari proprio, diciamo, fondare le proprie attività sul volontariato, sull'energia di tante persone che sanno fare cultura. Questo è un punto, io credo, molto importante, perché l'Italia viene riconosciuta all'estero soprattutto per il buon vivere, per l'arte, per la letteratura, ma siamo, ahimè, stiamo perdendo questo patrimonio. Ecco, questa è la mia impressione da italiano che vive all'estero. Stiamo perdendo questo patrimonio ed è un grande peccato. E quindi questa cultura va svecchiata. Io le voglio fare un caso proprio concreto, molto terra a terra. Ecco, quando si è all'estero, un classico motivo di confronto con i colleghi è proprio l'offerta delle diverse televisioni nazionali, pare con i tuoi colleghi tedeschi, inglesi. In Svizzera, per chi non ha il satellite, l'unico canale che arriva e Rai 1. Ebbene, Rai 1, ieri sera, offriva alle otto e mezza il gioco dei pacchi, una serie su un prete che è bello, buono e risolve i casi. Risolve i casi e poi convince anche i colpevoli a redimersi. E la trasmissione di approfondimento, di approfondimento culturale, di informazione, non parlava, che so, delle presidenziali negli Stati Uniti, non parlava della giornata mondiale dell'alimentazione, no, parlava della tematica scottante del settantesimo miracolo di Lourdes. Quindi il titolo, il titolo della puntata era Bernadette ha detto la verità. Ecco, io sinceramente mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno di... No, era Vespa questo, quindi il consiglio che do io, se proprio dobbiamo rottamare qualcuno, rottamiamo Vespa. Ecco, il secondo punto invece è quello del merito. Un paio di anni fa abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri iscritti chiedendo loro qual è la ragione che la spinti a lasciare l'Italia a venire a vivere in Svizzera. Abbiamo ricevuto tante risposte, i più hanno citato la mancanza di lavoro, i salari non adeguati, ma anche una società molto ingessata e maschilista. Se però c'è un fil rouge che lega tutte queste risposte, ebbene, questo fil rouge è il fatto di dover essere dovuti partire dall'Italia per vedere riconosciuto il proprio valore. Ecco, l'assenza di meritocrazia in Italia. E questo è particolarmente ingiusto, è ingiusto per quelli che partono, ma ancora più per quelli che restano. Attenzione, quelli che restano non lo fanno perché sono mammoni. Scusate, si sente? Quelli che restano non lo fanno perché sono mammoni, lo fanno perché non hanno una forza economica per partire, o perché magari per le loro condizioni sociali o culturali proprio una vita fuori dall'Italia non se lo sono mai prospettata. E quindi questa è una battaglia che la sinistra deve intraprendere, la battaglia del merito, non bisogna lasciarla alla destra. Merito significa anche giustizia insieme ad altri valori, qual è la solidarietà e i diritti. C'è poca meritocrazia nel mondo del lavoro, c'è poca meritocrazia nel mondo dell'università. E qui mi ricollego a quanto diceva la mia collega, notizia recente che l'Unione Europea sta tagliando i fondi per uno dei programmi più meritevoli per le università, cioè l'Erasmus. E questa è una cosa a mio giudizio scandalosa, proprio quando vogliamo creare l'Europa, cerchiamo di fondere questi paesi e tagliamo programmi così meritevoli. E la meritocrazia vale anche in politica, il problema di fondo non è quello dell'età dei candidati, signor segretario, è quello di trovare i candidati meritevoli. Ovviamente non è facile, non ci sono criteri obiettivi, certo è che è possibile quantomeno evitare che i non meritevoli accedano a posizioni che non li competono. Come si fa questo? Si fa attraverso la trasparenza, bisogna promuovere la trasparenza, bisogna che i cittadini sappiano chi stanno votando, qual è il loro passato, quali sono le loro idee, quali sono i loro progetti. Quindi anche in politica alla fine ci vogliono tre qualità, competenze, passione ed idee, preferibilmente idee di sinistra. Grazie. Buonasera, mi chiamo Ada Marra, anzi addolorata Marra, i miei genitori sono di Lecce, abitano in Svizzera, io sono nata qua, abito qua, ho le due cittadinanze, oggi sono parlamentare al Parlamento svizzero nel Partito Socialista, vorrei salutare il compagno Bersani, che onore avessi mai pensato, salutare gli organizzatori di questa serata, tutti quelli che conosco qua. Io in fondo rappresento quelli che sono nella sala, cioè quelli che hanno emigrato da tanti anni, certi più da 50 anni sicuramente, sottolineare che loro hanno costruito la Svizzera ma hanno partecipato anche all'Italia perché avete costruito le case, perché investite sempre anche oggi, avete aiutato le vostre famiglie in Italia, quindi siete una parte importante ancora oggi dell'Italia. Dico questa cosa perché purtroppo ci sembra che, è un messaggio che faccio, che l'Italia sta abbandonando un po' i suoi, tagliando nei corsi di italiano in Svizzera oppure nelle ambasciate, eccetera, ma questo l'avete già sentito, però è bene ricordarlo ancora stasera. Poi c'è la nuova generazione di emigrati che sono qua, i studenti, i ricercatori e il nostro ruolo come partito socialista, io adesso parlo al popolo di sinistra qua in Svizzera e cercare di far sì che queste persone nuovamente arrivate in Svizzera aderiscono e si coinvolgono anche nella vita svizzera. Io sono sempre un fenomeno, ogni volta che vado a parlare, Claudio Micheloni lo sa, faceva campagna in Svizzera, sono andato e ho detto sì ma non bisogna votare solo in Italia, bisogna votare in Svizzera e quindi ho rotto un po' la campagna. Quindi ho anche un appello a voi tutti qua, perché se vogliamo costruire un'Europa di sinistra tocca a noi il partito, perché ovviamente e obiettivamente i governi in Europa oggi non è che siano proprio di sinistra, quindi tocca anche a noi impiegarsi in questo senso. Poi volevo fare un altro messaggio più politico questa volta, con i compagni del PD che sono qua, anche certi onorevoli, facciamo incontri regolari al Parlamento con gli italofoni del Parlamento, socialisti e socialisti. Il nostro scopo è cercare di collaborare insieme. Allora parlo un attimino della Svizzera e delle sue particolarità che in fondo sono questi oggi. In Svizzera per gli stranieri è molto dura, ma non per tutti i stranieri, perché in fondo si dice che gli svizzeri sono xenofobe, eccetera, eccetera, ma non è vero. Il problema è che non piacciono i poveri, perché quelli ricchi gli si accolgono con mani aperte. E se dico questo è per lanciare un altro messaggio a chi è qua presente e anche a lei, se permette, non ce la faccio a dirle tu, non ce la faccio. No, 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 l'autorità è sempre l'autorità. Allora, la cosa è la seguente. Abbiamo avuto incontro con degli onorevoli italiani, non tutti di sinistra, ma anche con quelli di sinistra. E mi riferisco alla fiscalità con l'Italia, questo famoso accordo Rubik, tipo Rubik, che forse ci sarà con la Germania. E cioè cercare che gli evasori fiscali, quelli che tradiscono il Paese, perché se uno ama il Paese dà i soldi per le imposte, per creare tutti i servizi pubblici. Allora quelli là che stanno in Svizzera, bisognerebbe infatti gli italiani che i soldi ritornassero in Italia. Però secondo me, perché la sinistra Svizzera non vuole questi accordi Rubik, ma non perché non vuole restituire i soldi, ma perché vogliamo darvi tutti i soldi che vi aspettano. E purtroppo sento un po' di esitazione anche nella sinistra, cioè visto che l'Italia sta in condizioni un po' pessime, a volte uno si accontenterebbe del 10% a livello di tasse. Ma non basta. Allora questa è un po' la mia domanda. Che facciamo con la fiscalità? e bisogna anche ammettere che questo problema fiscale non deve essere un problema tra Svizzera e Italia, perché in Svizzera ci sono 500.000 italiani. Quindi è una componente importante. Allora io le auguro una bella campagna. Io sono venuta qua a parlare con il rappresentante che è una delle sinistre e mi rallegro di sentirla. Io mi chiamo Maria Chiara Vannetti, abito a Nechatel, sono segretaria del circolo PD di Nechatel, un piccolo circolo, comunque abbastanza attivo. Mi piacerebbe parlare qui di un argomento che sta a cuore, molto a cuore, a tutti gli italiani all'estero ed è il destino dei nostri corsi di lingua e cultura italiana e naturalmente che rientra poi nel quadro più della politica, della cultura, dell'esportazione della cultura italiana all'estero. In Svizzera sono 16.000 i ragazzi, gli studenti che frequentano i nostri corsi di lingua e cultura e ogni anno siamo con l'acqua alla gola e con il pensiero ci saranno, non ci saranno, si riproporranno e questo non è un problema da poco, è un problema assolutamente rilevante per noi che viviamo all'estero. Perché? Perché rappresenta il nostro attaccamento, la nostra italianità. Dunque perdere questa possibilità significa rinunciare, farci rinunciare alla nostra italianità. Naturalmente capiamo bene che l'Italia ha attraversato un periodo critico, molto critico, ci sono tantissimi sacrifici, gli italiani sono chiamati a fare dei sacrifici enormi, immensi e dunque parlare di queste cose può sembrare a un certo momento anche un po' strano, ma siamo dell'idea che il problema dei corsi di lingua e di cultura italiana va inserito in una riforma dell'esportazione della cultura e dell'italianità nel mondo. Dunque forse è da rivedere anche il sistema proprio Italia e dunque anche i corsi di lingua e cultura italiana vanno inseriti in un nuovo sistema in cui ci sia la collaborazione fra tutte le sinergie presenti in Europa, a partire dalle associazioni di italiani, a partire dagli istituti di cultura, attraverso anche presenze in Italia. Penso alle università per gli stranieri di Siena e di Perugia, penso alle regioni che in sinergia potrebbero lavorare su questo argomento e vorrei anche chiudere dicendo una cosa, riprendendo anche quello che diceva Ada, noi viviamo in un paese, la Svizzera, in cui l'italiano è lingua nazionale, dunque da un certo punto di vista siamo molto privilegiati e la Svizzera ha una legge di tutela delle lingue minoritarie. Allora, perché non pensare a creare degli accordi bilaterali fra Italia e il singolo paese che accoglie l'italiano affinché insieme si possa trovare una soluzione a questo problema, dunque attraverso risorse da mettere a disposizione da entrambi le parti, perché no? Naturalmente nella specificità di ogni paese, perché è chiaro che la Svizzera poi non ha le stesse caratteristiche della Germania o di altro. Quindi ripensare, ripensare, non annullare, perché fino ad ora con il governo Berlusconi si è rischiato veramente grosso, cioè gli italiani all'estero praticamente dovevano essere spaziati, non interessavano, erano un problema, certe volte. Allora, c'è da capire, vorremmo riprendere, interessa, io penso che il nostro partito in questi anni abbia dato dimostrazione di grande interesse attraverso anche proposte molto interessanti. Allora io spero che anche quando riprenderemo l'Italia in mano, e spero presto, ecco prestissimo, questo sarà uno degli argomenti che il nostro segretario vorrà sicuramente affrontare in maniera seria questa volta, senza infingimenti e senza soprattutto lasciare gli italiani in una sorta di limbo, che non si sa bene cosa diventeremo. Allora aspettiamo una risposta su questo, grazie. Io sono Antonio Ereditato, sono napoletano di origine e dal 2005 a Berna, sono docente universitario e direttore dell'Istituto di Fisica delle Alte Energie a Berna. Innanzitutto vorrei dire, vorrei ringraziare il segretario per essere venuto oggi al CERN e ha visto un piccolo pezzo del grande Italia fuori dall'Italia. Spero siamo riusciti a convincerlo del valore della ricerca italiana e soprattutto dell'importanza e della rilevanza che hanno i giovani in questo contesto. Sono abbastanza convinto che il segretario ha percepito alcuni punti essenziali durante questa visita. Il motivo per cui io sono qui è essenzialmente perché rappresento il mondo della ricerca e perché rappresento anche il mondo dell'emigrazione, quello che in maniera molto semplicistica viene detto la fuga dei cervelli. Dico in maniera molto semplicistica perché qui potremmo fare i convegni, ovviamente ho tre minuti a disposizione e non potremmo farlo. Quindi vorrei affrontare i due punti separatamente, un minuto e mezzo e un minuto e mezzo. Allora innanzitutto ricerca e cultura sono ovviamente legati. Con la cultura si mangia. Questo è un punto chiave e credo che sia la cosa più importante che possa dire nei miei tre minuti. In più con la cultura ci si affranca, si diventa liberi, si passa da essere elettori a cittadini ed è solo la cultura che ci può dare questo. Più che la giatezza economica, più che... Pensateci bene, senza cultura non si saranno mai liberi, anche ricchi. Quindi la ricerca è lo strumento attraverso il quale la cultura progredisce. Io, da tecnico, da fisico, sarei tentato di dire che la cultura è la scienza, la scienza esatta, la ricerca, quello che vedete al CERN. Però questo sarebbe uno sbaglio gravissimo. La cultura è la cultura umanistica, è la letteratura, è l'archeologia, le scienze del territorio, sono tutte risorse che abbiamo in Italia e che per colpa di scelte volute, e insisto, volute, si è fatto in modo che questa risorsa fosse messa in secondo rango. Quindi noi diciamo, beh, con la cultura non si mangia, ma al limite con la fisica tutto sommato ci sono le applicazioni, ma certo con la letteratura non si mangia. E quindi i nostri letterati, i nostri archeologi, i nostri umanisti sono costretti a emigrare. In Germania si può studiare il latino molto meglio che a Roma. E non è una battuta, è vero. Io sono più o meno del mestiere, ve lo posso garantire. Quindi il problema della cultura e della ricerca, dello strumento che permette di raggiungere questo affrancamento, si può dire. Allora, vediamo un po'. Ricerca è soprattutto ricerca fondamentale, è ricerca curiosity driven, come si dice. Non esiste la ricerca applicata, esiste l'applicazione della ricerca fondamentale. Oggi parlavo con il segretario del discorso della candela, che uno può sempre sviluppare una candela, ma facendo una candela sempre migliore non arriverà mai alla lampadina. Per arrivare alla lampadina c'è bisogno di quella genialità, di quella libertà che deve avere il ricercatore, di pensare a cose apparentemente senza applicazione. Vi ricordo che il WWW è stato inventato al CERN, l'avessimo brevettato avremmo risolto i problemi, ma non l'abbiamo fatto perché il CERN è aperto, è di tutti, 14% è dell'Italia. Ora, l'Italia investe in ricerca fondamentale l'1% del PIL, poco più, va bene? Questo si confronta col 3% della Svizzera, col 3% della Danimarca, Germania, dei paesi civili. La cosa che mi sorprende positivamente, ma mi fa anche un po' tristezza, è che la Cina sta raggiungendo il livello del 3%. Sono stato di recente in Cina, ho verificato con mano che c'è una situazione inflattiva. La Cina ha un'enorme quantità di liquidità e la sta investendo nel modo giusto, nella ricerca fondamentale. Siamo quasi al 3%. Uno potrebbe dire che è una situazione di crisi, non abbiamo i soldi, dobbiamo bruciare i libri per riscaldarci. Una cosa terribile, no? Bruciare i libri per accendere il camino. È quello che stiamo facendo. Ci ne pentiremo, però intanto è quello che stiamo facendo. E si dice, adesso non possiamo farlo. Io sono andato a vedere le statistiche. Dal 1980 all'85, un periodo di boom, potremmo dire, per l'Italia, si investiva in ricerca meno dell'1% del PIL. Quindi allora non è una questione di quanti soldi abbiamo a disposizione. È una volontà politica, precisa, quella di dire, pensiamo alle cose serie, la ricerca viene dopo, la cultura viene dopo. E quando ministri della Repubblica Italiana, questa è una cosa che proprio non digerisco, vanno a dire che con la cultura non si mangia, io non riesco proprio a capire questa attitudine suicida. Ora, il problema della ricerca è complesso. Il problema degli investimenti per la ricerca sono complessi. E lo vedo io perché sono coinvolto nei sistemi di finanziamento della Svizzera. Quindi so più o meno quello di cui parlo. Un problema importante è che il futuro, ragionevolmente, il futuro presidente del Consiglio italiano dovrà affrontare e che la ricerca non si deve finanziare soltanto pubblicamente. Ma bisogna operare delle azioni di incentivazione affinché i privati abbiano interesse, come negli altri paesi. Scopriamo l'acqua calda. È dappertutto così. È conveniente investire in ricerca. Passo al secondo punto. Il secondo punto è legato all'emigrazione. Giulia ha già toccato questo punto. Allora, piccoli numeri. 30.000 giovani vanno via dall'Italia all'anno. Giovani qualificati. Quanti ne entrano? 3.000. C'è uno sbilanciamento. Allora, in Germania e in Svizzera, negli Stati Uniti, tanti ne vanno e tanti ne entrano. Delle volte c'è un bilancio attivo. Come per esempio per la Svizzera. La Svizzera attira. Allora, noi non dobbiamo bloccare la fuga dei cervelli. Perché è mobilità. Perché, come ha detto anche Giulia, fa bene. Dovrebbe essere un paese normale, come diceva qualcuno di voi. Vi ricordate? Beh, io ho detto una volta, a una domanda di un giornalista, noi abbiamo un enorme capitale che abbiamo lasciato, che abbiamo perso. Questo capitale è andato all'estero. Bene? Non riprenderemo il capitale, ma ripigliamo almeno gli interessi. Dobbiamo fare in modo che questo capitale venga sfruttato, certo, dalla Svizzera, alla Germania, all'Inghilterra, ma che almeno noi siamo capaci di prenderne gli interessi. Ora, questo governo, più o meno l'attuale governo, più o meno ha fatto qualcosa. Si sta muovendo in questa direzione, della creazione di reti, di network tra le eccellenze italiane e all'estero. E guardi, non parlo soltanto della ricerca, parlo anche degli imprenditori, di tutti gli aspetti dell'italianità costruttiva e positiva. E per usare un discorso che oggi ha fatto il segretario, un'Italia etica. Perché è quello di cui abbiamo bisogno oggi, di un'etica che abbiamo perso completamente negli ultimi vent'anni. Il discorso dell'emigrazione culturale è anche legato, e questo l'hai detto giustamente Giulia, al sistema ingessato accademico italiano. Questo dovrei fare un mea culpa, perché in qualche modo è il mio campo, ma credo che sarà uno dei grossi compiti. Non dovremmo fare l'ennesima riforma, ne abbiamo fatte tante. Dovremmo applicare qualche riforma. Applichiamo perfino la riforma Gelmini, ma applichiamole. Arriviamo fino in fondo, arriviamo in una situazione stazionaria. Un punto che riguarda l'emigrazione. Qui voi conoscete l'emigrazione sicuramente meglio di me. Esiste l'emigrazione di necessità, quella che ha vissuto l'Italia subito dopo la guerra. Poi c'è stata l'emigrazione di mobilità, o fuga di cervelli, chiamiamola come vogliamo. Adesso c'è una nuova emigrazione, e la sto percependo, come ha detto ai lavori. È l'emigrazione di scelta. L'emigrazione qualificata, molto qualificata. Non più solo giovani, ma quadri. Finanza, medicina, ricerca. Tutti i campi. Stiamo assistendo a una emorragia. E questo sono miliardi di euro, se andiamo a quantificare. Ora, che cosa spinge queste persone ad andare via? Vabbè, questo è un problema politico e sta al segretario elaborare su questo. E sarà lui, come presidente del Consiglio, trovare delle strategie. Se no, non si va da nessuna parte. Se no, l'Italia è destinata al declino. Ora, una piccola cosa tecnica. Perché gli stranieri non vengono in Italia? Perché a me sarebbe bene che tanti italiani vanno via, ma tanti americani, tedeschi. Non voglio essere razzista, però noi non abbiamo immigrazione da parte dei paesi sviluppati. Non abbiamo immigrazione qualificata. Ci sono dei sistemi che vengono applicati, voglio finire con una nota tecnica. Per esempio in India, in Cina, c'è il cosiddetto reverse migration. Che è una tecnica che stanno applicando in Cina e in India. Sono riusciti a essere convincenti a far ritornare i cinesi e gli indiani che lavoravano negli Stati Uniti, in Europa. Con degli enormi incentivi. Ora, questi sono problemi che fanno tremare i polsi. E sono sicuro che, sono confidente che verranno affrontati. E sono sicuro però che devono essere affrontati. Grazie. Io sono Fabrizio Loconte, originario da Rianirpino, laureato qui in Svizzera al Politecnico di Lausanna in Ingegneria. Poi ho fatto un dottorato. Durante questo dottorato abbiamo sviluppato una tecnologia che permette di migliorare l'efficienza energetica. Voglio proseguire su quello che ha precedentemente detto. Che la ricerca deve essere incoraggiata perché crea anche lavoro. Oggi noi abbiamo dunque questa società che impiega 5 persone, produce questi moduli in Italia. Li installiamo qui adesso in un ecodistretto. 450 appartamenti che si costruiscono nel scopo di ridurre la consumazione energetica. E questo è anche un punto che deve essere abbordato. Noi esistiamo grazie all'aiuto che abbiamo trovato qui in Svizzera. Intorno al mondo della start-up c'è un ecosistema che dà consigli, dà aiuti, anche finanziari. Malgrado il fatto che siamo un paese, la Svizzera è comunque diviso in tre parti per le lingue. Ma questo paese è unito nel mondo della start-up e ci permette di avanzare. E questo qui penso che deve essere anche incoraggiato in Italia di dare la possibilità a giovani con idee tecnologiche di crescere, di costruire e crescere per creare lavoro e risolvere problemi che oggi sono comunque importanti nel nostro settore, quello dell'energia. Allora il regista cosa dice? Che do qualche risposta e poi parlo? Allora, subito grazie a tutti di questa opportunità, grazie a chi ha dato una mano all'organizzazione di questa visita, grazie a tutti voi che siete qui. Io cerco intanto di reagire a alcune cose che sono state dette qui e poi mi rivolgerò a voi per cercare di fare un po' il punto sulla situazione europea e italiana e anche sulle prospettive politiche. È chiaro che nelle visite che ho fatto oggi si vede effettivamente una bella Italia, veramente una bella Italia, che segnala appunto problemi, quelli che abbiamo sentito, ma insomma dice anche che ci siamo, abbiamo delle forze, delle energie, possiamo essere stimati, possiamo trovare un elemento di fiducia. E io sono partito da qui per dire esattamente questa cosa, perché non è una sorpresa per me vedere una così bella Italia qui. e ho voluto partire da qui in questo viaggio per dire anche al resto d'Italia, guardate che i problemi ci sono, ma non può passare l'idea che non ce la facciamo. Non può passare l'idea che non ce la facciamo. E quindi prendiamola da dove l'Italia si è messa in valore. Prendiamola da lì, non pensiamo solo alle robacce, cerchiamo di far forza alle nostre vitalità. È chiaro che nell'Italia, nella bella Italia, l'Italia della vitalità, che intendiamo sono queste di questa generazione, di questa nuova presenza, colta, istruita, ma fatemelo dire, è anche quella della gente che ha faticato nei cantieri, nelle miniere, che ha portato comunque in giro per il mondo, in quelle condizioni lì, in quelle epoche lì, in quella situazione lì, però, l'idea di gente per bene, di gente dignitosa, di gente che lavora, di gente che ha affetto per il suo paese, per la sua famiglia. Insomma, anche quella è una bella Italia. Sono delle belle Itali, insomma, che si passano il testimone. Ora, questi, belle Italia di oggi, ci segnala dei problemi, che io, anch'io, sento acutamente, perché, visti da qui, si vedono con grande chiarezza, grande nettezza, ma si vedono anche stando là. Allora, su tutto questo sistema, adesso non potrò essere molto lungo, insomma, ma su tutto questo sistema dell'istruzione, della formazione universitaria, della ricerca, certamente noi abbiamo, con tutta evidenza, un problema di potenziamento, un problema di svecchiamento, un problema di internazionalizzazione, un problema di rottura drastica di meccanismi corporativi di usura. E' facile dirlo, certamente smontarli non sarà semplicissimo, però bisognerà metterci molta determinazione. E' vero, e questo è davvero consolante, che i nostri ricercatori, quelli che escono dall'università, che affrontano i dottorati, che poi fanno progetti di ricerca, concluso questo iter, sono apprezzatissimi, vanno a ruba, come si dice. Quindi uno conclude, giustamente, che noi, diciamo, per la prima parte, come hai detto tu Giulio, per la prima parte della formazione siamo in grado di garantire un prodotto, diciamo così, dopodiché i problemi cominciano dopo. Però purtroppo, devo dirti, che comincia ad esserci un problema anche prima. Cioè noi l'anno scorso abbiamo perso il 10% di iscrizione in università. E quindi c'è anche questo problema profondo. Io francamente proprio lo prenderei da lì. Cioè noi abbiamo intanto un tasso di dispersione scolastica, poi abbiamo un abbassamento del tasso di iscrizione all'università e abbiamo dentro un meccanismo che si è accumulato negli anni, che io adesso troverò un'altra parola, ma devo definire classista, perché è chiaro che in questa situazione viene fuori un meccanismo selettivo in un paese dove non spendi un euro, adesso esagero, ma mica di tanto, per il diritto allo studio, che non riesci diciamo così a stabilire diciamo una facilità anche di spostamento, di mobilità delle persone se non costi molto alti. È un paese nel quale che è in crisi economica, in recessione e quindi dove i costi e l'iscrizione, l'assenza degli interventi del diritto allo studio. Noi purtroppo con la cura berlusconiana abbiamo cominciato ad inaugurare la seguente cosa, perché uno ha diritto alla borsa e però non ci sono i soldi. Questo ormai si afferma come fosse una cosa normale, per cui diciamo ma scusa, ho diritto o non ho diritto, perché toglimi il diritto ma se ho il diritto non togliermi i soldi. E naturalmente tra una situazione di questo genere, cioè costi crescenti a carico delle famiglie, una situazione di recessione che ti appanna anche la fiducia nelle prospettive, è chiaro che le famiglie che reggono il colpo sono famiglie nelle quali insomma la situazione economica è più decente, è più sicura e quindi non solo possono affrontare la spesa eccetera ma possono traguardare al dopo con più fiducia perché la domanda è ma cosa studia fare se poi non trovo il lavoro? Allora questa domanda è preoccupante per una famiglia benestante ma è drammatica per una famiglia che non ci arriva. Quindi cominciamo a prenderla da lì, bisogna riprendere in mano questo tema del diritto allo studio bisogna impedire che ci sia un impoverimento dell'accesso al disturbo superiore all'università. Detto questo abbiamo un problema intanto cominciamo a andare dal dato materiale è chiaro che uno sbocco per i nostri ricercatori quando il turno all'università è bloccato al 20% anche con formule che poi va a capire adesso quali saranno è molto molto difficile e quindi lì bisogna prendere in mano questo tema in modo selettivo finché si vuole ma noi dobbiamo dare qualche accesso in più alle prospettive dei nostri ricercatori. Dobbiamo affrontare quel tema che dicevi che io ho ripreso un tema crucialissimo noi non possiamo in nome di meccanismi corporativi provincializzarci quando abbiamo delle risorse che sono enormemente spendibili sul piano internazionale noi non siamo ospitali e non mettiamo nei meccanismi perfino in forme obbligatorie la necessità per dei dottorati eccetera di avere delle presenze anche in situazioni internazionali con degli scambi dei meccanismi di reciprocità perché effettivamente questi dati che venivano ricordati sono dati abbastanza impressionanti anche la questione per esempio di Erasmus che poi sta dentro insomma un pochettino a questo tipo di discorso adesso vogliono tagliare che sarebbe un delitto però noi lo usiamo troppo poco bisogna mettere preservarla e metterne i meccanismi anche a proposito dei fondi premiali per l'università quelli che che riescono a incoraggiare meglio questo tipo di scambi però ecco adesso non fare troppo lunga volevo concludere su un punto allora noi dobbiamo attrezzare la ricerca anche con infrastrutture adeguate a tenerci una diciamo una ricerca di base di base io la penso esattamente come ha detto adesso il professore Sposito dopodiché quindi e questo è chiaro quindi ci vuole autonomia autoorganizzazione non facciamo delle cose burocratiche prendiamo sugli enti li ammocchiamo poi li ammocchiamo eccetera eccetera riconosciamo anche diciamo così l'autonomia della scienza con la capacità di produrre risultati verifichiamola prendiamo i meccanismi internazionali che consentono di andare a verificare i risultati i costi eccetera ormai ci sono standardizzazioni molto facili si guardano i risultati si garantisce l'autonomia della ricerca di base dopodiché noi in questo nostro paese abbiamo un problema di fondi io l'ho sempre visto facendo il mestiere che facevo ho seguito tanti anni i temi industriali i temi dell'apparato produttivo noi abbiamo veramente il problema di una un meccanismo diciamo di produzione e di assetto del nostro sistema produttivo che assorbe troppo poco gli esiti possibili della della ricerca è chiaro di se questi per caso si sono invontati il WWW se avessero tenuto il brevetto col 14% di quel brevetto noi avremmo risolto i problemi dell'università italiana della ricerca e di tutto quanto quanto lo usiamo in Italia quanto il sistema produttivo riesce ad assorbire e questo è un problema perché noi se adesso trasferissimo un attimo di discussione fuori dal tema formativo e andassimo su quello produttivo noi abbiamo una sola possibilità cioè quella di far l'Italia fare il nostro mestiere però farlo a livello di innovazione di qualità di specificità di distintività di flessibilità adeguato alle esigenze di oggi perché in un mondo che cresce perbacco che è dove si affacciano 500-600 milioni di consumatori tutti gli anni ma vuoi che l'Italia non trovi il suo posto tutti la vogliono l'Italia il problema è dargliela e dargliela anche in termini di prodotti di meccanismi produttivi che riescono ad incorporare qualità innovazione e qui c'è inutile bisogna che il nostro sistema produttivo ha cominciato da sistemi di piccola impresa si mettano in condizione di capire che la conoscenza diciamo artigianale nel senso diciamo così di classe non basta bisogna mettere la conoscenza formalizzata in qualche modo allora io non credo avendo fatto io l'amministratore io non sono un costruttivista che dice bisogna costruire degli enti che fanno questo quell'altro trasferimento tecnologico o tutte ste robe io credo che sia un'asseminagione che possono mettere in giro delle persone delle persone che non solo hanno accumulato conoscenza hanno fatto ricerca in settori specifici ma sanno come approcciare il tema della ricerca delle connessioni dell'apertura mentale e siccome il nostro sistema produttivo adesso deve mettersi in queste condizioni quindi al di là della grande industria medie industria bisogna che il sistema anche delle piccole si mette in rete e sviluppi assieme in forma solidale diciamo delle funzioni qualificate io credo che un altro l'altra faccia del discorso sia quello effettivamente di trovare degli strumenti e ci sono secondo me ne avevamo inventato qualcuno perché questo tema venga drammatizzato e si aiuti il sistema produttivo ad approcciarlo anche incorporando persone che sanno come ci si rapporta con quello che può offrirti in modo formalizzato a volte in modo anche random perché vengono fuori ecco quello che la ricerca può produrre quindi smontare meccanismi corporativi è la cosa più importante da fare perché si parte da lì tutti i sistemi che ostacolano le cose che hai detto sono semplicemente dei sistemi corporativi da smontare non è che non ci sono le tecniche per smontare è il rapporto di forze che va creato e siccome però il paese è nei guai bisogna andare giù con un po' di determinazione a fare qualche lenzuolata anche lì e andarci dentro secco perché non vedo altra cosa e questo tema si allaccia alla questione della meritocrazia che è legata al tema di smontare meccanismi corporativi familistici localistici e così via è legata anche il tema di far entrare nella testa dell'Italia guardate è molto difficile il tema della valutazione perché se tu fai una domanda a tutti gli italiani gli dici ma tu sei per il merito il 99,9 poi salvo un ubriaco ti dice che è per il merito quando cominci a mettere lì un meccanismo di valutazione nessuno lo accetta sia chiaro e questa è un'altra cosa da fare è un'altra rocce da rompere un meccanismo da superare perché la meritocrazia hai certo dei riscontri oggettivi spesso e volentieri anche nei casi della ricerca pubblicazione quello che vuoi ma insomma a un certo punto questo elemento valutativo deve essere fatto in modo trasparente in modo serio i giovani sono assolutamente disposti ad accettarla questa cosa qui secondo me è una cultura nuova che sta arrivando che si sta sedimentando nella media generale la comprensione sociale di questa cosa un po' meno è un altro tema un'altra rocce a rompere poi tu allarghi il discorso e dici la politica sono d'accordo che si vuole il rinnovamento della politica sulla base del merito perché non è uno giovane vecchio o cose eccetera noi ci abbiamo sempre in Italia tutte queste polemiche qualche volta io l'ho già detto qualche volta il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dirà all'Italia di mettersi sul lettino lo psicanalista proprio per obbligo e per capire come mai noi discutiamo di problemi che non esistono quando abbiamo un sacco di problemi che esistono è vero o no quindi ci siamo cacciati tutti in un film dove è chiaro che la ruota deve girare è chiaro che i giovani devono arrivare è chiaro che chiunque può dare una mano anche se ha 99 anni perché Rita Levi Moltalcini a cent'anni ha dato una mano e quindi di che cosa stiamo parlando e mi dicono quante vedremo quante legislature ma c'è anche gente che magari è la prima legislatura non ha dato no Silipotti era la prima legislatura Calearo era la prima legislatura ma insomma no ecco dopo di che c'è il tema di dire come cosa vuol dire il merito in politica intanto il merito in politica non può deciderlo un valutatore che è il segretario il merito in politica lo si decide là dove uno fa la sua attività politica perché lì si misura quel che fai quel che ho come vieni percepito vieni percepito come una persona per bene viene percepito come una persona che mette davanti un interesse generale visto che ti occupi di politica rispetto al tuo vieni percepito come uno che si dà da fare o chiacchiera solo viene percepito come uno che unisce o come uno che divide come viene percepito e chi vuol che selezioni un bravo politico si selezioni dal basso io non ho altra non capisco altra cosa che non questo si selezioni dal basso facendo una cosa scarpinando misurandosi facendo attività che può essere attività in un movimento attività in un'organizzazione attività in un circolo attività sto parlando di senso largo ovviamente no cioè la capacità di creare comunità attorno a te sulla base di valori che ti vengono riconosciuti per cui sembri una persona per bene che ha in testa un bene collettivo sul quale ti sta impegnando non c'è uno che possa dirti viene fuori da 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 un'esperienza da una da un macinare un'esperienza e quando arrivi e all'inizio non sei imparato ma quando arrivi ho che hai fatto l'amministratore ho che hai fatto le cose eccetera cominci a essere uno che non sei inventato da sé e può portare qualcosa quindi io credo a una politica partecipata non credo che un uomo solo al comando battezzi che è buono e che è cattivo c'è poco da fare può esserci della gente che magari a me non è di mio gran gusto per come la penso la dice eccetera però se riesce a rappresentare in modo credibile una realtà un popolo un'esigenza un tema bisogna rispettarlo politica e partecipazione è questo io credo che qui dobbiamo tornare per fare questo è chiaro che bisogna avere un partito che sia in grado di vederle queste cose di percepire quindi ci vuole un partito comunque radicato un partito popolare popolare che è il contrario di populista la parola popolare popolare è il contrario è stare guardare la gente all'altezza degli occhi dove ci vuole un partito che sia in grado di selezionare così per cui in un tal territorio sembri una bestemmia se viene Bersani e dici candido quello lì no va a casa Bersani e noi candidiamo questo qui cioè io concepisco anche una politica fatta così poi io posso dare il consiglio però io credo molto a meccanismi di partecipazione dal basso venendo al tema fiscale io dico solo questo che sai noi siamo un singolare paese che è riuscito a fare una norma per cui con la modica spesa del 4 o 5 per cento uno diciamo si è ripulito tutto quello che aveva fatto in barba la legge con chiusure tombali eccetera e lì mi sono cavato un piccolo gusto perché mi sono cavato un piccolo gusto perché io un anno che dicevo ma se abbiamo bisogno di un po' di soldi andiamo a prenderli a quelli che hanno fatto quel condono e tutta l'intelligenza nazionale mi diceva che ero non sapevo niente che non era possibile che era una roba retroattiva che è arrivato monti e invece è possibile soltanto che lui ha preso 4 o 5 miliardi io ne avrei preso i 14 e avrei messo un po' più di soldi a disposizione degli investimenti per dare un po' di lavoro ma comunque quindi io sul tema sono ho raccomandato al governo di essere molto cauto perché capisco bene quello che dici tu possiamo andare a legittimare in qualche forma un meccanismo fiscale diciamo comunque di vantaggio che può incoraggiare anche l'esportazione ecco tuttavia io penso che in qualche modo in modo appunto che eviti l'incoraggiamento all'evasione trasferimenti capitali eccetera alla fine una soluzione bisogna trovare bisogna trovare nella dimensione europea qui perché noi possiamo farci la corsa noi la Germania e la cosa qui bisogna trovare nella dimensione europea e mettere in chiaro questa questione risolverla e io penso che potrebbero esserci anche le soluzioni i punti di caduta naturalmente chi è stato scottato di più come noi c'è la tentazione a accettare un prezzo anche più chi è più tipo la Germania può essere un po' più esigente ho sentito i nostri compagni dell'Espede per esempio su questo punto ha una posizione molto netta possono essere diciamo più prudenti e più rigorosi mettiamola nella dimensione europea e troviamo una soluzione sulla questione dei nostri tutti di cultura del tema della lingua italiana e così via lì Berlusconi è andato giù con l'accetta insomma in quegli anni lì proprio disastro poi adesso naturalmente non sono per noi rose e fiori neanche in questo momento però mi pare che tu dicessi secondo me delle cose molto molto sensate cioè dicevi stabilità non cerchiamo di non dover imparare sempre all'ultimo momento che ci cambia le carte in tavola dicevi gioco di squadra cioè troviamo una regia perché insomma tutti quelli che possono darne a mano lavorino però per un obiettivo per un obiettivo solo e dicevi lavorare per accordi bilaterali per mettere diciamo a fattore comune anche un possibile sforzo reciproco con i paesi mi pagano delle piste sono qui per prendere anche suggerimenti naturalmente mi pagano delle piste molto molto intelligenti sulle quali è assolutamente possibile lavorare e infine sugli ultimi due interventi torniamo insomma a questo tema questo tema di fondo noi abbiamo un sacco di intelligenza nel nostro paese un sacco di intelligenza non riusciamo a ricavarne tutti gli interessi li mettiamo li mettiamo in giro abbiamo capacità innovativa anche nella piccola impresa io quando andai via da ministro dell'industria lasciamo lì un programma che era industria 2015 che era sostanzialmente creare delle piste di orizzonte di grande frontiera tecnologica dove dire alle piccole imprese guardate venite qui venite in compagnia non da sole venite in compagnia fra voi imprese venite in compagnia di un qualche soggetto finanziario una banca o d'altro possibilmente venite in compagnia preferibilmente di un'università di un centro di ricerca e tirate fuori dei prototipi in che settori efficienza energetica risparmio energetico tecnologie del made in Italy cioè stare sulle nostre vocazioni ma mettere dentro tecnologia scienze della vita e tecnologie per i beni culturali avevamo trovate queste quattro piste eravamo partiti con la prima efficienza energetica arrivarono mille progetti perché poi non è che non abbiamo la gente sveglia naturalmente devi accompagnare queste cose anche dal lato della qualificazione dei consumi è chiaro che se fai una roba sulla tua industria per l'efficienza energetica se fai poi lo sgravio fiscale o le imprese o le famiglie per applicare o nuovi materiali o tecnologie sull'efficienza risparmio energetico qualifichi i consumi e sviluppi la produzione che c'è anche prendere dal lato della domanda e quindi ci sono tante piste che vanno dalla ricerca fondamentale alla valorizzazione del ruolo direi proprio economico sociale del ricercatore alla spinta a dare un di più di innovazione al nostro settore produttivo che sono piste che sono decisive per il nostro paese poco da fare poi naturalmente per fare queste cose è vero che ci vogliono un po' di soldi non è sto dicendo che si fanno le nozze con i fichi secchi ma come dicevi tu esposito guarda guarda ah scusa è da Napoli mi viene sono da Napoli però ci ho detto anche prima esposito no perché poi ti spiegherò sono lavorato sono esposito come ha detto il ritardo è vero che sono dei soldi ma che è un problema ma non è il problema più grosso secondo me il problema più grosso è l'altro meccanismo è l'incrostazione da rompere è avere la forza per disturbare di disturbare dei meccanismi che si sono insediati che si sono poi ci vogliono anche un po' di soldi ma il fatto è che vai a prendere un po' di tutte le volte si dice ci vogliono un po' di soldi adesso li tagliano va bene arrivederci ma anche qua se poi non cambi il meccanismo è acqua che butti via perché alla fine è inutile mettere dei soldi in meccanismi che non funzionano ecco adesso detto tutto questo e ringraziandovi ancora per questa opportunità fatemi fare qualche considerazione situazione che abbiamo nel nostro nel nostro paese ma va bene non è la novità siamo dentro una crisi quindi inutile ribadirla è la crisi più grave al dopoguerra d'oggi e io continuo a dire questa è la cosa che mi brucia di più perché la dico sapendo che è proprio vera la crisi c'è c'era siamo dentro siamo in Europa ma noi Italia non avremmo dovuto essere su un punto così esposto e questo lo dico a ragion veduta come si dice in scienza e coscienza perché non c'era nessuna ragione se questi nei dieci anni avessero tenuto un minimo di barra sia dal punto di vista del controllo della finanza pubblica sia dal punto di vista degli andamenti economici reali non c'era nessuna ragione che noi fossimo in questa situazione adesso cosa è successo è successo che ci troviamo con una fase che sconta quel che abbiamo avuto alle spalle perché questi governi di destra Berlusconi Tremonti e compagnia non avendo nell'ultimo periodo avendo avuto un crollo micidiale di credibilità e non portendo portare all'Europa nessuna riforma hanno stretto con l'Europa un patto che per l'Italia mentre dico noi lo rispettiamo sia chiaro che è particolarmente gravoso questo è un elemento che sfugge nella discussione noi siamo gli unici che si sono impegnati a arrivare al pareggio di bilancio l'anno prossimo attualmente pareggio al netto della congiuntura però comunque è una stretta micidiale abbiamo un avanzo primario che viaggia verso il 4% che nessuno ha sapete cos'è l'avanzo primario quei soldi che metti da parte per pagarti i debiti e quindi quei soldi che avanzi dal fatto che chiedi più di quel che dai 4% e abbiamo dopo la Grecia la recessione più grave d'Europa questa è la situazione italiana e questa è anche l'eredità che Monti si è trovato a gestire e quindi noi siamo in situazioni in cui adesso chiodo per chiodo si dovrebbero schiodare tutte le cose cui quelli là si sono impegnati quando si parla di IVA quando si parla di cose e bisogna mettersi in condizione di arrivare agli obiettivi che sono sottoscritti questo in un contesto europeo nel quale io lo dicevo oggi per me è la cosa più importante da dire nel quale applicate tutte queste belle ricette che l'Europa ha determinato verso i paesi più esposti la Grecia la Spagna l'Irlanda Portogale il risultato è che chi era in recessione è in recessione più grave e nessuno di quei paesi diciamo al margine ha migliorato il debito o riuscirà a centrare gli obiettivi di deficit ha solo più recessione più disoccupazione gli altri paesi e parliamo di tutti gli altri fino alla Francia e alla Germania chi era chi cresceva un po' è in stagnazione chi cresceva parecchio è in rallentamento e quindi dalla Grecia fino alla Germania sia chiaro che il treno viaggia in una sola direzione il meno chi sta in una carrozza più comoda chi sta in un carro bestiame ma il treno va in quella direzione quindi la cosa non funziona quindi bisogna che tutti credo lo schieramento progressista debba veramente impuntarsi su una piattaforma chiara piattaforma chiara per me è data in due parole se io ho capito gli spread eccetera ma qui se andiamo in recessione e tutto quanto non aggiusti neanche i conti non ci hai mai visto aggiustare i conti se vai giù con l'economia e non dai lavoro quindi bisogna che noi facciamo un patto serio subito ieri anche se è duro è difficile da ingoiare poi vedremo come dargli una base democratica eccetera che da un lato dica va bene mettiamo in comune la sorveglianza la vigilanza anche sui bilanci prima di presentarlo in Parlamento ci sia un posto per favore non un funzionario ecco cerchiamo di fare una roba ragionata che dica ok o no ma fatto questo nello stesso momento noi dobbiamo avere dei bilanci e delle politiche economiche che diano un po' di margine agli investimenti che allentino un po' la stretta che si faccia la golden rule per gli investimenti cioè la possibilità di escluderli dal pareggio di bilancio o almeno una parte di questi investimenti che ci siano i project bond per fare un po' di progetti per l'occupazione che ci sia la tasso sulle transazioni finanziarie perché la finanza paghi un po' di quel che ha provocato e venga messo a servizio dell'occupazione che si faccia la vigilanza bancaria unificata è che si vada di lì diversamente è molto difficile allora quello che voglio dire perché si legga bene la difficoltà del momento noi siamo sempre lì a guardare questo vertice quell'altro vertice cosa decideranno ma guardate che c'è un punto di fondo il punto di fondo è che dopo l'euro e dopo lo schiaffo che l'Europa è venuto dalla globalizzazione che ha un po' sconvolto il modello sociale si è predicato per parte delle destre l'idea che ognuno si salva da solo noi siamo stati gli antesignani in Italia siamo stati i primi con Berlusconi e Bossi per esempio a dire che se ci liberavamo della Zavorra del Sud il Nord andava come una spia stupidaggine di proporzioni cosmiche perché anche un bambino se legge l'andamento di come stati i processi di crescita in Italia negli ultimi 15 anni si vedrà che tutte le volte che la forbice Nord e Sud si è accorciata l'Italia ha accorciato la forbice con la media europea tutte le volte che si è allargata la forbice fra Nord e Sud l'Italia ha allargato la forbice con la media europea per un motivo molto semplice siamo un'economia connessa tu puoi tirare anche un filo spinato ma siamo un'economia connessa nei consumi nella produzione e là ci sono risorse potenziali però per dirvi quella stessa logica che in Italia ha umiliato il mezzogiorno fino a rubargli dei soldi di investimento per finanziare le multe della quota elate quella stessa logica è una logica che è girata in tutto è la stessa logica che fa dire ma perché devo dare un euro se mi salvo se non so perché devo dare un euro io nei comissi dico sempre a Maroni quando mi rivolgo alla Lega dico guarda che questo meccanismo che avete inventato è girato poi in tutta Europa anche in Finlandia c'è un partito paraleghista che si è preso in un'elezione il 19% e dico guarda che per un finlandese te sei un terrone non ti darà mai un euro non ti dà un euro allora io non do un euro a te lui non dà un euro a me eccetera la Grecia ha barato i conti poi ti dimentichi che gli avevi venduto le BMW e gli avevi venduto gli aerei da caccia e gli avevi venduto eccetera prestandogli soldi con le banche cioè ci siamo dimenticati e allora cos'è venuta meno è venuta meno la materia prima la reciprocità l'idea che non è possibile salvarsi da soli e quindi nel continente più forte del mondo perché noi restiamo l'Europa il continente più forte del mondo sono tutte balle che adesso l'Europa e certo c'è la Cina c'è la Cosa ma dal punto di vista del PIL dal punto di vista dei consumi dal punto di vista perfino della ricerca come continente siamo i più forti del mondo siamo diventati un problema per il mondo perché abbiamo pensato all'inverso invece di fare dei passi avanti di solidarietà di unificazione di reciprocità davanti alla crisi non c'era la materia prima è arrivata la crisi finanziaria e noi per dieci anni abbiamo predicato che il più forte si salvava e adesso ci hanno i guai nel profondo delle opinioni pubbliche nel profondo delle opinioni pubbliche il nostro socialista olandese bravissimo fra l'altro secondo me che è un fisico è un fisico un fisico no te lo dico se vuoi per dire vedi che c'è spazio più bravo lui secondo me e quando ha fatto la campagna elettorale due mesi fa con tutti i contendenti la domanda era sempre questa il giornalista ma se voi governate darete un euro alla Grecia e allora in sei cinque dicevano no 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 il nostro diceva non si può dire no anche ci piaccia o non ci piaccia perché arriverà il momento che tutti assieme come Europa dovremo decidere come fare e stassi a fondare uno fondare l'altro fondare l'altro poi arriva era partito con il 9% ha preso il 27 e tutte le volte che c'era un sondaggio sulla domanda perdeva 70 a 3 però lui sostiene dice però io ho detto la verità e la gente la pensa magari in malamento diversamente però capisce anche che a questo punto di balle non se ne può più raccontare ecco allora adesso bisogna secondo me come progressisti ci mettiamo su questa chiave qui basta perché affondiamo tutti come 10 piccoli indiani a uno a uno basta ragioniamo mettiamo assieme un programma per reagire e lì dentro ci sta un'agenda italiana nuova è chiaro che Monti l'ho detto e lo ripeto a me mi fanno il prelievo tutti i giorni di sangue per vedere il tasso di montismo ho detto e loro oggi uno dicendo questa cosa mi ha detto sì adesso stanno sviluppando il montimetro e Monti è una risorsa enorme l'abbiamo voluto anche a prezzo di un nostro passo indietro è quello lì è quella cosa lì non c'è bisogno di dire dovrà essere utile al nostro paese che è nel futuro quando però vengono a dire Monti che vuol dire che cosa vuol dire nella testa di molta gente vuol dire che la politica non sarà in grado di dare risposte una legge elettorale magari proporzionalissima si frantuma tutto si fa una balcanizzazione del sistema politico poi dice secondo loro sbuca il governo Monti dove io dovrei stare con Berlusconi non so se anche con Grillo o con chi non esiste no non esiste non può esistere io lo dico prima lo dico prima non esiste ma non esiste non esiste proprio dalla palude viene fuori la palude punto qui ci vuole qualche forza politica che diriga un po' il traffico su un programma coerente per riuscire a fare una legge sulla corruzione ci abbiamo messo un anno e mezzo e è venuta fuori blanda 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 che c'è ancora adesso da fare in altro giro su quella legge perché ma perché c'è ancora in Parlamento il rapporto di forze è ancora quello di quando votarono che Rubi era nipote di Mubarak l'hanno votato il rapporto di forze è quello lì e quindi non si può andare avanti così non si può quindi ci vuole una scelta politica noi stiamo organizzando il campo dei progressisti mettendolo a colloquio con quelle formazioni di centro liberali moderate eccetera che non intendono correre dietro al leghismo al berlusconismo al populismo ma noi organizziamo il campo dei progressisti e cerchiamo di fare un'operazione che cominci a considerare il punto principalissimo del problema italiano perché non potremo fare niente di tutto quello che abbiamo detto e altre cose di cui non abbiamo parlato se non ci sarà un minimo di credibilità delle istituzioni della politica se non ci sarà un minimo di scossa un minimo di riscossa civica un minimo di rinnovamento morale che dia che crei fiducia nel paese e quindi il punto di partenza deve essere quello lì è per questo che abbiamo fatto le primarie guardate capisco non sarà mica risolutivo però in tutto questo bailami in tutta questa radicale sfiducia il fatto di avere una politica che rischi qualcosa che vada a confronto con i cittadini che gli dica ma se liete voi che si metta nel confronto io stesso ho derogato l'ho fatto derogare lo statuto anche se tanti non erano d'accordo per dire non chiudiamoci nel fortino guai se la politica si chiude nel fortino rischi qualcosa poi vedremo ma cerchiamo di incontrare milioni di persone di farle decidere di dare un minimo di fiducia mentre c'è gente che ancora là da Arcore non sa come fare pensa mentre c'è gente che pensa di guidare la macchina stando ai box perché poi c'è questo mentre c'è gente che là comanda nel tabernacolo della rete e non sai come scegliere le cose mentre c'è tutto questo mentre c'è tutto quello schifo che vediamo in giro cerchiamo di mettere un po' di acqua fresca nella politica e da quando abbiamo fatto questa scelta i risultati ci sono la gente ha capito abbiamo percezione della rilevazione la gente ha capito e quindi forza mettiamoci dentro un po' di rischio dopo perché se noi facciamo per bene questo passaggio se facciamo per bene questo passaggio poi ci ammassa più nessuno adesso ve lo dico ci ammassa più nessuno non ci ammassa più nessuno e voglio vedere cosa andrà a dire ecco cosa possono dire quindi andiamo di lì perché bisogna arrivare a una situazione in cui si possa governare con la forza di un popolo perché stavolta non si può governare senza popolo non si può l'idea che ancora torniamo ai film dove uno fa lui che c'è tutto lasciamo stare c'è una realtà difficile non la risolviamo con la comunicazione stavolta questo problema qua è troppo forte il problema bisogna dire la verità e bisogna avere della gente con te che sia disposta ad affrontare anche ad affrontare una fase difficile purché chi ha di più dia di più purché ci si mette dell'equità ci si mette la pulizia e purché si abbia chiaro qual è il problema il problema è il lavoro legalità e lavoro questo è il problema e tutto deve girare attorno a questa cosa qui tutto abbiamo bisogno di dare un po' di lavoro così non si può andare avanti e per dargli bisogna metterci della correttezza della pulizia della legalità della credibilità poi si possono fare riforme e vedere e abbiamo bisogno di uno sforzo comune chi ha di più deve dare di più questo ci vuole e quindi io credo che il primo gesto che dovremmo fare sarà un gesto di questa cosa le prime norme le primi atti sarà un gesto dall'atto di un rinnovamento morale e civico perché se no siamo messi veramente in una situazione difficile ora più precisamente cosa possiamo aspettarci sul piano politico visto che siamo qui come dire in un'Italia che vede solo rete 1 dobbiamo dare anche qualche informazione no però voglio dirti per tua consolazione che l'altro giorno voi non vedete strisci alla notizia no ecco allora mi è arrivato lì questo questo qui che io poi non l'ho visto come è andata ma mi è arrivato quello lì il finto vespa no e mi ha detto mi ha messo sotto la cosa e mi dice ma è allora la bindi ho vent'anni così rotta mazione tutte queste storie qui e mi ha detto scusa ma e te dico ti voglio bene lo stesso però una ventina d'anni che sei lì ma rotta mattina allora siccome appunto avete bisogno di qualche informazione ma insomma noi in questo momento la situazione si può descrivere così la destra è nel pallone e quindi noi abbiamo Berlusconi che è riduttante scendere in campo direttamente perché preferirebbe avere un prestanome diciamo ma è anche faticoso ma non lo trova e quindi può darsi che tocchi a lui poi abbiamo un cercarsi dentro diciamo formazione centrale generali ce n'è molti lì sulle truppe riflettiamo noi siamo messi piuttosto bene in questo momento stiamo cercando di costruire questa alleanza abbiamo fatto questo patto sui socialisti con vendola ma ecco leggete la cosa anche in un altro modo noi abbiamo riunito l'altro giorno non perché le abbiamo arruolate per l'amor di Dio nella loro autonomia però abbiamo chiamato associazioni di ogni genere il campo economico sociale culturale eccetera eccetera ne sono venute 200 200 è andata anche è stata anche sgradata perché siamo venuti a farne parlare una sessantina durante una giornata se dovremmo farne un'altra perché non ci aspettavamo una cosa così perché abbiamo detto guardate fate come volete per l'amor di Dio nell'autonomia però intanto diteci com'è sto paese e vi assicuro che è venuto fuori una giornata di sguardo sulla realtà che purtroppo la politica spesso non riesce a dare ecco e dico vedete se potete dare una mano per dare un po' di fiducia appunto in un discorso civico vedete di partecipare di fare quindi stiamo cercando di tenerci molto larghi con la testa può darsi che siamo davanti a impegnativi confronti adesso anzi senza può darsi abbiamo le elezioni siciliane 28 siamo lì lì che combattiamo prima volta credo al dopoguerra che siamo pari e pari quindi ce la giochiamo sul filo abbiamo la regione lassi avremo anche la regione lombardia e poi le elezioni politiche quindi stiamo cercando di organizzare il campo dei progressisti il civismo quindi diciamo formazioni civiche eccetera e di avere un dialogo ripeto con quelle forze centrali che non vogliono schierarsi di là dopodiché il punto di fondo però è il vero problema alla fine è che quest'ondata di disaffezione porta fortemente verso posizioni anche di tipo semplificatorio populista alla grillo e all'intorno e questo è è un problema serissimo perché sono formazioni che si innabissano dico a niente ma basta che la gente veda quel che succede e e questo è un elemento francamente preoccupante di cui si parla troppo poco si parla troppo poco stiamo parlando di personaggi che ci hanno predicato che l'AIDS non esisteva stiamo parlando di cose di cosucci di questo genere se a noi ci guardano da fuori dalla Malesia o dalla Finlandia o dalla Azerbaijan e uno dice dove metto i risparmi che buoni posso comprare va in banca eccetera e guarda il sistema politico come è messo in Italia dice vabbè c'è sto PD che dice l'euro l'Europa eccetera eccetera l'alleanza benissimo dice il resto il resto c'è uno che è quel Berlusconi che un giorno sì un giorno no dice ma l'euro forse meglio la lira e tutte le robe poi c'è uno che si chiama Grillo che dice fuori dall'euro e anzi sai cosa c'è non paghiamo neanche i debiti che è ecco cose così quindi anche quello dell'Azerbaijan dice ci penso ci penso quindi noi abbiamo un problema che è di sistema no non è solo italiano e quindi su questo e vado a chiudere su questo punto noi ci predisponiamo a far comprendere agli italiani che la proposta del PD non è solo una proposta politica per un partito e un'alleanza non è neanche solo una proposta di governo è una proposta di sistema in che senso noi abbiamo avuto una degenerazione del sistema favorita da meccanismi che io definisco per semplicità dell'uomo solo al comando dove c'è l'imperatore il feudatario il vassalo il valvasore e il valvasino e il valvasino non risponde alla gente perché era un uomo nel valvasore e il valvasore era un uomo nel vassalo il vassalo il feudatario e il feudatario l'imperatore nessuno delle formazioni in Italia si chiama partito tranne il partito democratico tutti hanno messo nomi sui simboli tutti ecco dice non siamo riusciti a fare una legge sui partiti per forza non li vogliono per quello ora noi stiamo dicendo all'Italia guardate dopo vent'anni o trent'anni perché la storia è lunga la storia da dove viene fuori la storia viene fuori che quando è caduto il muro di Berlino va bene gli altri paesi dell'est europeo del centro Europa hanno avuto la libertà la Germania ha avuto l'unificazione noi abbiamo avuto Tangentopoli va bene che era tutta roba che si era accumulata nel blocco della politica prima che avevamo il muro in casa non c'era ricambio politico e dentro a quella palude politica per anni e anni si era costruita anche un sistema anche di malaffa è esploso siamo ripartiti dopo il grande fatto storico nel discredito della politica è arrivato uno che ha detto io non so neanche cosa sia la politica sono un imprenditore e ha cominciato a dire adesso vi dico io come fare nel disprezzo della politica dello Stato della pubblica amministrazione della giustizia perché devo starli a riformarle a rendere più efficienti per i cittadini sono il nemico prendi voti contro perché devo avere una giustizia che funzioni no devo scagliare l'odio degli italiani verso una pubblica amministrazione di giustizia che non funziona non ha riformato niente il sistema politico è rimasto in mano a queste fumisterie comunicative sotto a questo è successo di tutto di più che adesso sta venendo fuori e noi adesso dobbiamo dire basta noi siamo per una riforma democrazia rappresentativa noi siamo per la costituzione repubblicana e adesso riformiamo la seconda parte facendo uno strumento che la riformi facciamo una legge sui partiti facciamo una legge contro la corruzione ma sul serio rimettiamo il falso in bilancio facciamo delle legislazioni antitrust per un mercato serio e mettiamo un po' di pulizia questa è la proposta di sistema in un'epoca nel quale corrono dei populismi invece anche di tipo nuovo che dicono arriva uno adesso ti dice quattro messaggi e andiamo avanti questa è la nostra cosa allora e chiudo io vorrei davvero che questa nostra sono qui per questo cercheremo di esserci magari non potrò sempre essere io ma in tutti i luoghi dove c'è una bella Italia in giro per l'Europa per il mondo in questo passaggio il PD ci sarà manderà esponenti faremo cercheremo di coordinarci con i nostri parlamentari con i nostri circoli fuori d'Italia perché voglio dire ve la dico così Monti ha portato credibilità rigore come immagine gran merito suo anche merito di Berlusconi perché venire dopo Berlusconi non è che ci volesse no? no nel senso con poco riesci anche ecco e e invece il prossimo giro partiamo in un'altra situazione allora noi abbiamo bisogno veramente che scatti un meccanismo nelle scelte che faremo politiche eccetera di dignità del nostro paese qui c'è in giro gente che pensa un po' nei sottoscali un po' fuori eccetera che pensa che con poca spesa si possa comprarlo nel nostro paese sto parlando di asseti produttivi sto parlando ecco dobbiamo risvegliare l'orgoglio nel nostro paese dobbiamo risvegliare il meglio che abbiamo il meglio che abbiamo dobbiamo che ci presentiamo col meglio che abbiamo e quindi cercheremo appunto di mettere in valore anche queste idee queste immagini d'Italia che abbiamo in giro per dire che abbiamo anche i tecnici ma abbiamo anche un popolo italiano che sa la schiena dritta che sa fare le cose per bene e che ha voglia di riprendere la sua strada grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti